Il suo obiettivo primario è quello di raccogliere quanti più fondi possibili per la cura contro il cancro. Ma il Villaggio della Salute, allestito in piazza del Plebiscito nell'ambito della Common Race for the Cure, è diventato negli ultimi tre anni un vero ospedale da campo a tutti gli effetti, dove poter eseguire screening e controlli per diverse patologie, non solo oncologiche. Parlano chiaro i dati relativi ai controlli effettuati nella tre giorni dell'iniziativa che si è chiusa ieri con la maratona e la passeggiata delle donne in rosa. 500 prestazioni effettuate il primo anno, 1027 nel secondo, 3842 quest'anno. 300 visite senologiche di cui due terzi con mammografia ed ecografia e un terzo entrambe effettuate con il 5% di risultati positivi. 600 prestazioni cardiologiche, una di queste ha consentito di salvare la vita a una donna che aveva avuto un infarto silente con rischio di morte improvvisa. Altre due signore, mentre erano visitate, hanno riscontrato il rischio di un coma diabetico nel corso delle 300 visite metaboliche eseguite. Per Anna Maria Colau, coordinatrice scientifica del Villaggio della Salute, i dati attestano la crescita della cultura della prevenzione. Abbiamo quadruplicato quasi il numero, che è un numero veramente straordinario grazie alla collaborazione di tutti i medici che si sono susseguiti nei vari turni con noi, con 1032 persone indipendenti tra loro che sono entrate. Accettare in una piazza mille persone che entrano per fare delle indagini vi potete immaginare quanto sia complicata la gestione. Ma abbiamo fatto un buon lavoro. Credo che chi è andato via è andato via con una diagnosi in mano. la gran parte, per fortuna, siamo oltre il 90% dei cittadini andato via con la certezza di essere in buona salute.